Noi siamo un capriccio della politica. Guarda, io mi confronto ogni giorno con letture su quello che stiamo facendo al governo della nazione che trovo francamente abbastanza bizzarre, no? Perché noi siamo stati raccontati, si è tentato di appiccicarci addosso tutte le etichette possibili e immaginabili secondo quelli che erano schemi di altri, schemi spesso interessati di altri. Ma la verità è che noi siamo una proposta politica e culturale troppo profonda per essere esaurita in una etichetta. Oggi mi si dice, eh ma Fratelli d'Italia è cambiata, eh ma la Meloni è cambiata, eh ma avete cambiato idea. Non c'è una cosa sulla quale noi non stiamo facendo esattamente quello che volevamo fare e che avevamo detto che avremmo fatto. Noi non siamo diversi da quello che eravamo, siamo sicuramente molto diversi da quello che altri volevano raccontare di noi. E la verità, purtroppo, viene a galla. Quindi penso che dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto fin qui e che ovviamente dobbiamo essere molto consapevoli della responsabilità che abbiamo.